Pijama Saks, un coraggioso terzetto di eroi. Guffetta e la ruvesciata della bella Saetta Amaya ha una vera passione per i libri della bella Saetta e le sue incredibili mosse di karate. Ne è completamente affascinata. Ma oggi tutti i libri della città stanno scomparendo dagli scaffali di scuole e biblioteche. Non c'è tempo da perdere, bisogna fermare questo disastro. Così di notte Greg diventa Gekko, Connor diventa Gattoboy, Amaya diventa Guffetta. Sono i Pijama Saks. Ed ecco Romeo, con l'aiuto del suo fedele robot, ha raccolto pile e pile di libri da trasformare in album di sue fotografie. Con una macchina di sua invenzione, cancella i libri e poi riempie di sue foto tutte le pagine. Così i libri sono molto più divertenti, ridacchia tutto soddisfatto. Troverò Romeo con il superpotere, pensa e trova della bella Saetta, dice Guffetta. Ma quello è un fumetto. Guffetta non funziona davvero, ribatte Gekko. Gekko ha ragione, i poteri della bella Saetta non funzionano per niente. Ma per fortuna, grazie al suo super udito gatto, ci pensa Gatto, boia a scovare Romeo. Oh no, i Pijama Saks. Perché rovini tutti i nostri libri, Romeo, dice Gekko. Leggere è bellissimo. A me non piace per niente. È molto più divertente guardare le mie foto, ribatte Romeo. Robot, distruggi quei buffoni. Il robot, con il suo fortissimo braccio meccanico, afferra i Pijama Saks e li lancia nella biblioteca ormai vuota. Ma i Pijama Saks non si scoraggiano tanto facilmente. Saltano sul lagatto mobile e si precipitano al prossimo obiettivo di Romeo, la biblioteca comunale. Gekko, tu e io blocchiamo il robot e lo mettiamo fuori uso. Guffetta, tu usa la vista Guffetta e avvertici quando stanno arrivando. È molto importante. Super presarettile, grida Gekko lanciandosi in cima alla biblioteca. Guffetta, però, continua a pensare alla bella Saetta. Così si distrae e il piano va a rotoli. Romeo arriva prima che i super pigiamini riescano a organizzarsi. Gekko si lancia sul robot, ma quello lo afferra per il codino e fa lo stesso con Gattoboy. In quattro e quattro otto i due si ritrovano legati come salami, mentre Guffetta finisce dritta dentro il cassonetto dei rifiuti. Che guaio! E adesso? Per fortuna Guffetta sta bene e libera i suoi amici senza fatica. Mi dispiace, perché volevo diventare come la bella Saetta? Io sono Guffetta e questa volta userò i miei poteri. È il momento dell'eroe! Ali da super Guffetta! Vista Guffetta! Eccola giù Romeo e il suo robot. Gekko, Gattoboy, voi tendete una corda tra quei due alberi. Io attirerò il robot con il mio libro e lo farò passare proprio in mezzo a voi. Aspettate il mio segnale. Sventolando il libro della bella Saetta proprio davanti al robot, Guffetta guizza e vola in direzione dei suoi amici senza mai farsi acchiappare, mentre il robot la insegue fino agli alberi dove Gekko e Gattoboy lo stanno aspettando. Sbam! Il robot inciampa nella corda e cade a terra. Che botta! I Pijamasque lo legano ben bene, ma il colpo che ha preso ha un effetto veramente insperato. Adesso il robot, invece di ubbidire i comandi di Romeo, dareta solo a Guffetta. Guffetta è un genio! Dice con la sua voce di metallo. Ora che Romeo non ha più il controllo del robot, i super Pijamini possono far tornare tutti i libri esattamente come erano. Per tutti i camaleonti! Ecco il mio libro preferito! Esclama Gekko tutto felice. Ancora una volta la missione dei Pijamasque è compiuta. Super Pijamini fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Fine Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.